Cari fratelli e sorelle della missione RUA e del mondo intero, in questo nonno giorno di digiuno chiediamo al Signore che ci insegni l'umiltà. Invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, oh Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempie della tua grazia i cuori che hai creato, oh dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo Crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irrade i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con balsamo del tuo amore. Difendeci dal nemico, recca in dono la pace, la tua guida invincibile, ci preservi dal male. Luce ed eterna sapienza, svellaci il grande mistero di Dio Padre e Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Leggiamo il Santo Vangelo da San Luca, capitolo undici, versetto ventinove e trentadue. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire, questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del Sur sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà. Perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condenaranno. Perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, ben più di Giona c'è qui. Parola del Signore, l'ode a Teo Cristo Gesù. Gesù, in questo fragmento del Vangelo, ci illumina attraverso due personaggi dall'Antico Testamento e un popolo docile. Tutti quanti dimostrano umiltà e obbedienza. La regina del Sur, il profeta Giona e il popolo di Ninive. Infatti, la prima, la regina di Saba, andò dal re Salomone per ascoltare la sua saggezza e i suoi consigli. Il secondo, Giona, predicò la conversione al popolo e lo avvertì. Ancora quaranta giorni, Ninive sarà distrutta. Infine, il popolo di Ninive rispose subito e senza esitazioni. I niniviti credettero in Dio e proclamarono un digiuno e vestirono di sacco, dal più piccolo al più grande. Gesù mette a paragone la generazione del suo tempo con quella visuta al tempo di Giona. Gli abitanti della città di Ninive rispossero prontamente al messaggio del profeta Giona, mentre la generazione di Gesù non prestò la sesta dovuta attenzione a lui, che è il figlio di Dio. Ed ecco, ben più di Giona e c'è qui. L'umiltà della generazione del tempo di Giona contrasta con l'orgoglio e l'ottusità della generazione di Gesù. Dobbiamo chiederci adesso, ciascuno di noi, come sono io davanti alla volontà di Dio? Perché così saranno i miei figli. Ricordatevi, così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo può dare frutti buoni. Matteo, settimo capitolo. Ecco, dobbiamo chiederci, mentre digiuno e prego, il mio carattere dovrebbe modificarsi e la mia volontà sommettersi alla volontà del padre. Se le virtù dell'umiltà e l'obbedienza troveranno posto nella mia anima, anche la mia famiglia ne sarà inoltà. Perché così come i figli apprendono le cose cattive, anche le cose buone, si vedono la mamma, il babbo, umile, chiedendo perdono. Ricordo questo fatto di una persona dagli Stati Uniti, di Florida, diceva che Gesù mi ha guarito e mi ha resta anche forte nel digiuno, ma anche mi ha fatto più umile. Sono guariti i rapporti tra i familiari perché io ho iniziato a chiedere perdono a ciascuno di loro. Ho fatto una lettera durante questo digiuno, io ho chiesto al Signore, Signore guarisci queste relazioni con la mia mamma, mia sorella, mio fratello. E così, piano piano, chiedendo a loro perdono, Gesù mi ha resto anche a me felice. E' stata una benedizione anche per il mio posto di lavoro perché Gesù mi ha dato un nuovo lavoro perché avevo bisogno e Gesù sa quello che ho bisogno. Un'altra persona da Stati Uniti, da New York, diceva Gesù ha portato la pace nella mia famiglia in 40 giorni e in quelli 40 giorni ha cambiato la vita. Mi sono innamorato di una persona che non conoscevo, si chiamava Gesù. Guarigione spirituale e fisica, sono liberata dall'orgoglio e dall'arroganza e adesso posso vedere come quando è mancata la mia nonna sono riuscito di chiedere perdono alle persone che ho visto nel funerale. Sono stato con Gesù e Gesù mi ha guidato e mi ha illuminato. Sono diventata dall'omissione alla missione, sempre non ho servito gli altri messi, non ho servito gli altri. Adesso è arrivato il momento che io possa aiutarli di più. Vado alle suore della madre di Reza di Calcutta e li aiuto. I frutti di digiuno hanno anche questa missione, missione di aiutare altri animali al digiuno. e un giorno uno dei miei amici l'ho incoraggiato di chiedere questa grazia al Signore e lui lo ha fatto. Per me è stata una gran sorpresa, ha iniziato e la sua vita anche ha iniziato a cambiare come la mia. Come possiamo vedere, Gesù ci transmette una cosa molto importante, essere umili, docili, perché la generazione è formata di persone che sono intorno a noi. Ciò vuol dire che se noi siamo più umili, docile, anche i nostri figli saranno così e così nostra comunità. Dipende di ciascuno di noi di come sarà questa generazione, perché noi non possiamo cambiare tutto il mondo, neanche i nostri propri amici. Possiamo cambiare soltanto a noi stessi se lasciamo a Gesù entrare nel nostro cuore. La frase di San Bernardo ci può illuminare oggi. Fai digiunare gli occhi da ogni sguardo indiscreto. Attenzione agli occhi. Le orecchie dall'ascolto di parole vane. Attenzione alle cose che sentiamo. La lingua dai pettegolezzi. Attenzione a quello che parliamo. E le frasi inutili, le mani da ogni pregrizia. Meglio abbracciare e fare le cose per gli altri. Ma ancora di più fai digiunare l'anima dai vizi e dai peccati. Bene, ci verrà oggi di fare una buona confessione o chiedere la grazia di questa confessione, perché così il Signore ci illumini in questo giorno nono del digiuno. Chiediamo al Dio Padre Celestiale una grazia importante, quella dell'umiltà. Dio Padre Celestiale, tu che hai fatto la terra e il cielo, ti chiediamo il dono dell'umiltà e della docilità davanti alla tua divina volontà, affinché si compia nella nostra vita quanto è scritto nei cieli. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Padre, Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre tutti i giorni della vostra vita. E la Vergevania vi compagna sempre nella divina volontà. Amen. Grazie a tutti! Grazie a tutti.